Buongiorno da Bittimo News, oggi 7 maggio è Santa Flavia Domitilla e si celebra come da tradizione la prima domenica di maggio la Giornata Mondiale della Risata. La Giornata Mondiale della Risata è stata istituita nel 1998 Navadan Kataria, fondatore del Movimento Internazionale dello Yoga della Risata. La celebrazione della Giornata Mondiale della Risata è intesa come una manifestazione per la pace nel mondo e ha lo scopo di costruire una coscienza globale di fratellanza amicizia attraverso la risata. La sua popolarità è cresciuta insieme con il Movimento dello Yoga della Risata, che oggi conta oltre 8000 club della risata in tutto il mondo, in tutti i 5 continenti.